Allora, di questa esperienza innanzitutto ci portiamo veramente tantissime emozioni. Innanzitutto la crescita perché siamo cresciuti tantissimo, abbiamo capito veramente cos'è, come vivere ed essere accettati in un certo senso, perché comunque i personaggi che abbiamo interpretato sono persone che in un certo senso non vengono accettate, oppure se vengono accettate vengono sempre viste con pregiudizio, quindi la cosa fondamentale è quella. E poi comunque con Edoardo, con Pierpaolo, con Attilio abbiamo creato una famiglia, quindi loro ci vogliono bene come se fossimo delle sorelle, quindi questa è un'altra bellissima emozione che ci portiamo in un certo senso. Io condivido il suo pensiero nel senso che con questa esperienza veramente abbiamo capito molte cose, abbiamo superato molti dei nostri limiti, prima ci sentivamo molto molto più timide, mentre grazie a queste interpretazioni che abbiamo fatto abbiamo sbloccato molti dei nostri lati. Interpretare appunto Desi e Viola ci ha fatto crescere, perché appunto noi adolescenti viviamo una fase molto particolare, quindi ci troviamo molti difetti guardandoci allo specchio e grazie a questi due personaggi oggi posso dire di guardarmi allo specchio e dire grazie per essere, per aver migrato così Gesù, diciamo, questo qua.